Tanta potenza in un corpo compatto e agile, signore e signori, ecco la BMW M2 Coupé, nuova supersportiva di Monaco di Baviera ed ultima generazione della Serie 2 a trazione posteriore, che si congeda con un canto del cigno decisamente entusiasmante. Lunga a 4,47 metri, la nuova M2 Coupé propone un design aggressivo e sopra le righe, con un inedito paraurti e un'aerodinamica migliorata per tutta la vettura, oltre a degli imponenti cerchi in lega da 19 pollici e ben 4 terminali di scarico. Nell'abitacolo la fibra di carbonio ben si abbina alla tappezzeria in pelle con cuciture blu a contrasto e crea un ottimo equilibrio tra sportività e lusso. Il comparto tecnologico è invece affidato ai servizi BMW Connected Drive, integrati da applicazioni dedicate all'impiego in circuito, come la GoPro App che gestisce la propria videocamera portatile mentre si effettuano giri veloci in pista. Ovviamente però il punto forte della nuova M2 Coupé lo troviamo sotto il cofano, un motore 3.000 6 cilindri twin power turbo da 370 CV, in grado di far scattare la vettura tedesca da 0 a 100 km orari in 4 secondi e mezzo, lo stesso tempo della sorella maggiore M4. Per gli amanti dei Track Day, BMW propone inoltre il cambio doppia frizione DKG a 7 marce con Launch Control e il pacchetto M-Drive che innalza la velocità massima raggiungibile a 270 km orari. Insomma, le altre supercar compatte sono avvisate.